Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Colpo di scena nell'isola dei famosi 2024, Peppe Di Napoli annuncia il suo improvviso ritiro. Attraverso i canali ufficiali del reality condotto da Vladimir Luxuria, si diffonde la notizia che uno dei concorrenti più seguiti ha deciso di abbandonare l'avventura. «È giunto il momento di dire basta, mi sento esausto», dichiara il concorrente nel breve video con cui comunica la sua decisione. L'annuncio del ritiro comporta l'annullamento del televoto in corso, con la promessa di riaprirlo per i restanti quattro naufraghi già in nomination. Nel comunicato ufficiale rilasciato, si legge, Peppe Di Napoli ha scelto di lasciare l'isola dei famosi. Il televoto viene quindi interrotto e verrà ripreso con i restanti nominati. Il gesto del concorrente suscita sorpresa e dispiacere, ma viene accolto con rispetto dalle autorità del programma e dagli altri naufraghi.